All'Istituto Comprensivo Statale Don Bosco Manzoni di Andrea i piccoli alunni prendono parte ad una manifestazione per inneggiare alla pace e alla gioia. Sentiamo. Il messaggio è chiaro, pace, amore, gioia, speranza, bandierine di carta scritte in polistirolo colorate e le canzoncine. Così i piccoli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale Don Bosco Santo Manzoni di Andrea hanno fatto sentire la loro voce per dire no alla guerra. Anche se così piccoli i bambini dimostrano di essere cittadini attivi e consapevoli esprimendo solidarietà al popolo ucraino. È il nostro dovere inculcare negli alunni sin dalla teneretà perché quelli che si stanno esprimendo in questo momento sono gli alunni della scuola di infanzia, inculcare i principi della pace, della tolleranza, dell'amicizia, della solidarietà, tutti i concetti fondamentali che possono creare l'uomo e il cittadino di domani. Dobbiamo necessariamente rispettare i goals dell'agenda 2030 e cioè quelli relativi all'educazione e alla pace. Abbiamo avuto un preciso compito dal Ministero della Pubblica Istruzione di incentivare tali iniziative e manifestazioni per sensibilizzare gli animi dei piccini ma anche dei più grandi perché i messaggi che arrivano ai piccoli poi giungono dritti dritti a casa nelle famiglie. Un messaggio forte, una goccia nell'oceano come diceva madre Teresa di Calcutta ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno. Educare invece i bambini ai valori della pace fin da piccoli, piccolissimi, è un'impresa grande che davvero la scuola sta intraprendendo e sta facendo con grande impegno. I nostri bambini ci lanciano messaggi e noi dobbiamo saperli cogliere da adulti perché talvolta poi diventiamo adulti e dimentichiamo le sollecitazioni dei bambini. Quindi quest'oggi veramente è una giornata di grande godimento spirituale, essere sollecitati da tanti bambini ai temi della pace. Che il Signore ci aiuti veramente. Grazie. Grazie.